Buonasera, continuiamo a dialogare di rivoluzione francese. Abbiamo già visto negli incontri precedenti quali sono le caratteristiche complessive della rivoluzione, da dove nasce i primi avvenimenti iniziali e poi abbiamo visto il sorgere dell'Assemblea Nazionale prima o l'affermarsi dell'Assemblea Nazionale prima il 17 giugno e poi dopo il 20 giugno un giornamento della Palacorda e poi siamo arrivati al famoso celebre 14 luglio del 1689 dove la presa della bestiglia, la rivoluzione prende colpo. C'eravamo poi lasciati con gli assegnati, la Costituzione civile del clero e la fuga del re nel giugno del 91 che certamente aveva creato, aveva danneggiato l'immagine e quel senso di unità della Francia. Ora però la Francia è raggiunta a un punto di arrivo di quello che era stato il suo percorso almeno in questa sua fase iniziale della rivoluzione. Il punto di arrivo è avere promulgato la nuova Costituzione, affermato, promulgato la nuova Costituzione. Infatti nel settembre del 1791 viene promulgata, viene annunciata la presenza di una nuova Costituzione. Una nuova Costituzione che era quello che era l'obiettivo della rivoluzione nei suoi punti iniziali, nel suo punto di avvio. La Costituente, il giuramento della Palacorda il 20 giugno, nel 20 giugno dell'89 aveva giurato di darsi una Costituzione e ora si è giunti a una Costituzione. Una Costituzione che deve creare una nuova Francia, una nuova Francia liberale, non democratica ancora, non democratica ma liberale, basata su una divisione dei poteri e comunque sul permanere della monarchia come elemento di equilibrio, perché la monarchia per alcuni ancora è un elemento di equilibrio, un elemento che deve rimanere un potere solo e solamente nelle mani del popolo potrebbe essere pericoloso e potrebbe creare elementi di squilibrio. Il preambolo a questa nuova Costituzione, questa Costituzione nuova, non c'era una Costituzione prima, è la Declarazione dei diritti dell'uomo dell'89. Protagonista ancora di questa prima fase della rivoluzione è, abbiamo detto, Lafayette, il leader dei Cordiglieri, quello il quale ha in mente una monarchia costituzionale, abbiamo già detto in altri incontri probabilmente il suo modello di Inghilterra, l'idea che sia possibile fare qualcosa che assomigli, non è uguale naturalmente al modello inglese, con una monarchia, con una monarchia temperata, con un Parlamento in Inghilterra, qui anche con una Costituzione, con una serie di caratteristiche che rendano la monarchia, la monarchia francese, una monarchia liberale, forse per certi versi più moderna rispetto a prima, certamente che abbandoni il sistema feudale, il sistema dei privilegi. Questa nuova Costituzione prevede tre poteri, tre grandi dei poteri, la famosa divisione dei poteri di cui parlava Montesquieu, liberale, la divisione dei poteri, nel mondo liberale i poteri devono essere sempre divisi perché un potere non prevalga mai sull'altro, il tema liberale è il tema dell'equilibrio tra le parti, appunto il pensiero liberale è contrario, è opposto alla costruzione di un'istituzione assoluta, assolutistica. Certamente c'è la questione della divisione dei poteri, c'è un potere legislativo rappresentato da un'unica Camera che è eletta, ha voto censitario, adesso vediamo cosa vuol dire dal popolo, poi c'è un potere esecutivo che in qualche modo è coordinato dal re, il re comunque è un sovrano costituzionale, ripeto non è più un sovrano assoluto, e poi c'è un potere giudiziario che ha più corti, corti di vario livello, anche dei tribunali dei tribunali locali, dove per condannare i trasgressori delle leggi, dove c'è una parte anche dei giudici che sono elettivi da parte del popolo, tre poteri separati, tre poteri separati. Tutto il sistema si basa ovviamente sulla divisione dei poteri, abbiamo detto questo è molto liberale il tema della divisione dei poteri, ma anche su dei diritti individuali dell'uomo, ci sono dei diritti, l'unica di questi diritti è il diritto di voto, però non è un sistema democratico, il diritto di voto è proporzionato a determinate caratteristiche, c'è, ma è proporzionato, non è uguale per tutti, non è a prescindere da determinate caratteristiche, perché ricordiamoci che il paese liberale ha delle venature comunque aristocratiche, si rivolge non a tutta la massa, non a tutto il popolo, ma è la condizione per poter accedere al diritto di voto? È quella di pagare un certo profilo di tasse, essere inserito in un certo profilo di tasse. Chi paga un certo profilo di tasse può votare, e quindi è un cittadino attivo, gli altri che non le pagano sono cittadini passivi e quindi non possono votare. Un po' la riflessione liberale è questa, tutto per il popolo, per così dire niente dal popolo, in ogni caso chi vota deve sapere votare su cosa votare, perché vota coloro i quali hanno messo i soldi, d'altra parte poi il governo e il Parlamento deve agire su delle risorse che sono state messe da delle persone, dunque sarà giusto che quelle persone che poi devono prendere delle decisioni saranno scelte da chi ha pagato, non da chi non ha pagato. Ecco, fa questo tema non democratico nel pensiero liberale, meno questo pensiero liberale così originario di questa fase storica. Ma vi è un'ulteriore differenza, non solo tra cittadini attivi e passivi, cioè tra chi può votare e chi non vota, ma anche poi tra chi poi a sua volta può candidarsi e qui bisogna pagare un ulteriore livello di tasse. Quindi c'è un sistema censitario, appunto non democratico, è una costituzione censitaria, quindi ovviamente il censo non si basa sul cognome, non è un sistema feudale basato sul censo etnico, sul censo per cui uno possiede un certo cognome per cui è basato su quanto si paga di tasse, sul tuo ruolo economico allora possiamo dire. E quindi ci sono cittadini attivi e passivi, quindi solo i primi hanno il diritto di voto e gli altri no. Poi ci sono doppie elezioni per l'Assemblea, nel fatto che c'è chi può poi dopo proporsi, può andare avanti, pagare un ulteriore livello di tasse e chi invece può solo semplicemente votare, ma poi non può candidarsi. Nel 791 qui ne abbiamo questa nuova Costituzione, con il monarca che coordina, mantiene il potere esecutivo, possiede anche il diritto di voto, diritto di veto, non dimentichiamoci, il diritto di veto che sarà un diritto che il monarca userà, userà durante lo sviluppo di questi avvenimenti e qualcuno anche gli rimproverà di averlo usato. Lui dirà, era un mio diritto, era un diritto che era stato previsto dalla Costituzione e il re comunque coordina, nomina i ministri, poi non è lui nel senso stretto che prende le decisioni, abbiamo detto, abbiamo naturalmente già detto il diritto di veto e il preambolo di tutto è la dichiarazione dei diritti. E' una dichiarazione dei diritti che prevede i diritti primari, i diritti fondamentali, altro tema centrale del pensiero liberale. La divisione dei poteri è il fatto che ogni uomo possiede diritti naturali, inalienabili, di natura formale, che sono quelli le quali gli consentono di essere pienamente uomo, pienamente essere umano. Questi diritti primari sono i diritti alla vita, sono il diritto alla libertà individuale, il diritto alla sicurezza, certamente, all'autodeterminazione, il diritto poi emergerà anche al giusto processo, quello che poi si chiamerà habeas corpus, non può il re arrestarti e mandarti alla Bastille, la Bastille è stata assaltata anche per questo, quindi qualsiasi tipo di processo deve seguire certe procedure, certe regole, un mandato d'arresto, l'imputato ha diritto di difendersi, seguire un certo tipo di procedure. Poi mette anche i diritti e la libertà di pensiero. Notiamo però che questi primi diritti sono i famosi diritti formali, non per questo che non siano importanti, cioè non sono diritti sostanziali che investono nella sfera economica, sono diritti così, di natura appunto liberale e formale, quelli che consentono all'essere umano di presentarsi come singola persona, ma ancora non sono ancora, non sono ancora, non saranno quelli che poi vedremo nel 2023, nel 1993, nel 1993 emergeranno come diritti sostanziali, quindi si comincerà a parlare di lavoro, si comincerà a parlare di assistenza, sul lavoro, di istruzione, di altre grandi questioni. Abbiamo detto che la rivoluzione francese in questo si distingue rispetto a quelle precedenti, se prima il solco di sviluppo era sempre stato quello della libertà, ora comincerà a essere anche quello della solidarietà. Un tema che c'è nella dichiarazione dei diritti, una parola che c'è è estremamente importante, è quello di felicità. La felicità c'è sia nella dichiarazione dei diritti dell'uomo francese dell'89, sia nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 76, del 4 luglio 76, cioè sia nell'una sia nell'altra. Con però venature diverse, credo valga la pena averle presente. Se in America si parlava, si diceva questo, reputiamo di per sé evidentissimo le seguenti verità, che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che il creatore li ha investiti di certi diritti inalienabili, che tra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Se qui quindi cerchiamo il tema della ricerca della felicità, insieme a quelli che sono i diritti primari, i diritti fondamentali dell'uomo, questi ci sono anche, essendo una dichiarazione liberale, sia quella americana sia quella francese dell'89, ci sono in tutte e due, però è declinata diversamente la questione della felicità. Se in quella americana c'è una ricerca della felicità, dico un impegno attivo, mettersi in campo e anche evitare che qualcuno blocchi questo mio impegno attivo, entro certi limiti naturalmente, invece in Francia il tema, la parola della felicità è declinata diversamente. Gli uomini nascono e vivono liberi, uguali nei diritti, le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescruttibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, la resistenza, la resistenza all'oppressione. Qui la felicità diventa l'affermare una serie di diritti che vanno mantenuti, cioè mantenere delle condizioni per cui uno possa essere felice. Ha un profilo diverso, uno è una ricerca, uno slancio, l'altro è raggiungere una condizione che poi va mantenuta, nella quale tutti possono muoversi liberamente e quindi da lì tutti possono essere, rimanendo in questa condizione, possono essere felici. Faccio notare che qui concludo che la felicità era stato uno dei grandi temi della filosofia, insieme alla verità. La verità e la felicità erano i due grandi temi nella ricerca filosofica dal mondo greco in poi. Mi fermo qua, vi aspetto ai prossimi incontri, parleremo della fase della legislativa che rappresenta un ulteriore sviluppo della rivoluzione, abbiamo detto una rivoluzione che ha più anni e più fasi e infatti la fase poi successiva sarà quella della legislativa. Grazie, a presto e al prossimo incontro.